Sì, tre punti fondamentali, andiamo partita a partita e il pareggio dell'ultima partita contro il Milan ci ha dispiaciuto perché meritavamo di più e niente, oggi, grazie a Dio, abbiamo portato i tre punti a casa. Ma me lo dici sinceramente? Guardate più le squadre dietro in Chiave Europa League o quelle davanti in Chiave Champions? Qual è l'obiettivo? Io ti sono sincero, non guardo la classifica né guardo le squadre che stanno dietro. Vado a divertirmi ogni settimana, ogni partita che passa, provo a sfruttare al massimo e divertirmi, è così che si vincono le partite. Basta che vinciamo noi e guardiamo noi. Senti, ma mi dici se ti piace questo ruolo che ti sta dando Inzaghi, un po' di jolly, no? Spacca partite o ti sta stretto o vorresti giocare di più? Io guarda, quest'anno, a essere sincero, sto giocando tantissime partite e sono un giocatore che gli piace giocare e aiutare la squadra. Niente, se devo entrare e fare le spacca partite, mi metto quella casacca e lo faccio. Senti, c'è un'immagine bellissima, veramente sei andato sotto la curva, ci sono stati, non so, cinque minuti di cori per te, si parla tanto del tuo futuro, con questo affetto dove vai? Guarda, viviamo il presente, è meglio vivere il presente, adesso sono alla Lazio e darò tutto per questa maia e per tutti i tifosi e lotterò qua. E niente, ringrazio anche i tifosi per i cori e si va avanti.